panico mi blocco ciao ragazzi è un passaggio molto particolare che si trova in tanti casi però se ci pensate insomma non so quando uno prende tanta paura nella maggior parte dei casi cos'è che si fa cos'è che fa si blocca e lo troviamo anche non so mi sembra che siano le pecore che quando ci fanno vinto ad essere morti ed è una cosa che però io ovviamente ci scherzo nella fase iniziale ma diventa molto deleteria quando si rapporta questo anche non solo a magari una grande paura quindi un senso di panico ma anche a un'incertezza portiamola in quello che può essere sia quello che può essere un rapporto piuttosto che anche un rapporto lavorativo o una fase lavorativa dove tu hai un attimo di incertezza ed ecco che le persone cosa fanno nella maggior parte dei casi tendono a bloccarsi cioè non fanno più niente in certezza mi fermo ho paura di sbagliare mi fermo ecco che quel momento lì è veramente deleterio che a differenza di quello che può dire la capretta dove lei si blocca per un senso di per far finta di essere morto quindi l'altro animale se ne va nel nostro caso diventa molto molto deleterio ma proprio per te che ti fermi ma perché perché dal momento che sei fermo tu non stai più facendo niente ecco che è forse la cosa meno giusta da fare in quel momento sono convinto che se una persona che fa questo sicuramente ti sarei reso conto che ad oggi probabilmente non ti ha aiutato questa cosa se sei una di quelle persone che nel momento della crisi del non so cosa fare del panico della paura o dell'incertezza ti blocchi ti sarei reso conto che non ti ha mai aiutato questa cosa ma perché non progredisci le cose continuano ad accadere il mondo del lavoro va avanti c'è qualcuno che ti supera ci sono tante dinamiche ok sta fermo no ecco che però è importante capire che in realtà basterebbe veramente poco cioè basta sempre anche nei momenti di crisi è comunque rendersi conto che comunque meglio fare qualcosa poco ma è sempre meglio stare in movimento perché semplicemente è solo facendo che in realtà puoi superare quella paura puoi imparare come fare e sai benissimo che nella maggior parte dei casi quella cosa che ti ha bloccato che ti ha tenuto fermo dal momento che l'hai fatta in realtà ti sei reso conto che ti dici ma scusami ma perché mi ero fermato per una cosa così però questo ti porterebbe ad avere un grande cambio nella tua vita perché comunque se hai la capacità di andare avanti non fermarti nelle incertezze nelle difficoltà ecco che lì veramente fai un salto di qualità impressionante ma per te stesso e quindi per quello che sono le cose che vuoi raggiungere e questa è la cosa importante quindi se magari fino a ieri sei sempre stato una di quelle persone che si fermano e oggi hai magari voglia di provare a cominciare a cambiare ecco che noi siamo una community di persone che si muove su digitale in diversi diverse maniere e abbiamo proprio un approccio di questo tipo al lavoro e alla crescita personale e professionale quindi se ti va di fare due chiacchiere scrivimi in privato ci confrontiamo insomma probabilmente questo potrebbe farti molto bene se sei una di quelle persone che si ferma ripeto molto importante nel panico nella paura sempre meglio comunque fare qualcosina star fermo magari è la scelta meno giusta per te ok viva la vita